Su Spettacolomania, Matthew Hartinson, Thomas the Beautiful. Come sei? Sono bene, come sei? Buono, grazie. Benvenuti a Roma. Ti piace l'Italia? Ti conosciami Roma? È la prima volta qui? No, è la mia terza volta in Roma. Mi piace l'Italia. È un paese bello, c'è molta storia di ricerca qui. E poi anche in Florence, in Lake Como. C'è molta buona alimentazione, c'è molto bella cose da vedere, c'è molto bella persone. È un paese bello. Molto bello, eh? Molto bello. Ok, tu sei da quattro anni in Beautiful? Quattro anni in Beautiful? Sì, quasi da quattro anni. Sì, sì, sì. Tu hai trovato un personaggio già formato. Cosa hai messo di te stesso? Com'è il tuo Thomas? Oh, lo vedo. Sì, sai, è stata una collaborazione con Brad Bell, dall'inizio. Non volevo fare la stessa cosa che gli ultimi Thomas hanno fatto. E quindi non ho guardato alcuni dei film, non ho fatto questo tipo di cosa. Ho fatto solo il lavoro di personaggio e la storia, e poi ho lavorato con Brad su quello che avrebbe avuto sull'imitato. In questo modo, posso portare un'unica take a questo. E poi, perché non volevo essere... È così weirdo come in un role che è già stato stato giocato da un altro actor. Ma in questo medio, è quasi normale. Ma non volevo gli fans pensi che in un modo che ero cercato di fare uno di altri altri. Quindi, abbiamo fatto la nostra cosa. e dall'inizio, Brad ha avuto alcune idee molto interessanti. E è stato molto divertente portare Thomas all'interno della distruzione e tornare. Sì. in questo modo, però lui non dice niente. E quindi, insomma, è un po', come dire, tiene nascosta questa cosa. Tu ci puoi già svelare il motivo e come andrà a finire. anche con Sheila. Especialmente con Sheila, credo che... non abbiamo mai trattato il conflitto che potrebbe avere con Thomas e Sheila, specialmente. Dopo le cose che ha fatto, ovviamente, nel pasto e continuare a fare, ci sono alcune cose che Sheila si tratta. Ma abbiamo ancora ancora trattato e quindi, ci sono ancora trattato con la storia di Thomas e Sheila e un conflitto che potrebbe succedere ma sarebbe explosivo. Ciao, Spettacolo Mania!